No, solamente da tanto tempo non si vinceva la partita in campionato, appunto era il derby di andata contro le Zebre, quindi vincere è sempre bello, poi soprattutto quando è un derby, quindi il morale era altissimo, tutti i ragazzi erano felici, ci siamo ritrovati dopo la partita, siamo stati tutti insieme. Siamo andati molto bene sui set-piece, quindi tutte le nostre giocate abbiamo provato in settimana, fatti quattro delle mete su cinque, sono state grazie alle giocate, abbiamo provato in settimana, quindi per quello è andato molto bene tutto il lavoro con Maso, per quello siamo contenti. Si può migliorare solamente la disciplina, siamo stati un po' troppo fallosi in alcuni momenti e solamente essere anche un po' più cinici, dentro le loro 22 si poteva portare a casa un po' più punti e segnare anche qualche meta in più. Vorremmo finire bene, scendere in campo con la giusta convinzione, portare a casa il risultato. Sappiamo che Cardiff è una buona squadra, sono molto bravi nelle remesse laterali, in mischia, quindi dobbiamo fare un grandissimo lavoro lì. Gli piace molto giocare in spazi larghi, quindi essere in piedi, scegliere quando andare sul punto d'incontro, prendere la giusta decisione e avere gli uomini in piedi, in linea. Assolutamente mi trovo bene, ho preso la giusta convinzione e so anche i ragazzi mi stanno dando una mano, mi tengono su moralmente e sono contento. Le due partite in Sudafra sono andate molto bene, mi sono fatto vedere, assolutamente c'è tante cose da migliorare ancora e speriamo di continuare così e fare sempre meglio. Grazie. Grazie.